Nelle parole della dottoressa Maria Antonietta Guido, responsabile della farmacia ospedaliera che ha preso in carico i 195 flaconi del vaccino anti-covid, c'è tutto il senso di quello che sta succedendo in questi giorni in Italia e in tutta Europa. Giorni importanti per la battaglia contro il virus che non arresta ancora la sua diffusione. I flaconi, che contengono 1175 dosi complessive, sono arrivati nella mattina del 31 dicembre 2020, scortati dalle forze dell'ordine. Lo scorso 26 dicembre allo Spalanzani di Roma ebbe inizio la campagna vaccinale e oggi finalmente questo vaccino è stato consegnato all'ospedale San Giovanni di Dio, dopo qualche giorno di attesa causato dal maltempo. Per la somministrazione della prima dose bisognerà attendere il pomeriggio del prossimo 4 gennaio e intanto nei giorni scorsi 25 operatori sanitari del nostro nosocomio hanno ricevuto il vaccino presso l'azienda ospedaliera di Catanzaro.